Buongiorno, il Capodanno è passato e fuori piove, quindi mangiamo. Siamo arrivati a Uwe. Cos'è? Non lo so, però non lo so. Era quello lì. Ma che fa? Non lo so. Che fa? Li ha posati per terra? No, li ha messi a cuocere. Ma non sembra caro quella cosa. Va bene. Quello lì? Non lo so. Ok, doppio. Ok, doppio. Siamo arrivati qua, abbiamo guardato il menù. Non abbiamo fatto neanche in tempo a capire che cos'era, che ci aveva fatto i piatti lei da sola. E allora. Guardate, guardate! Sì, spero da un buono Dov'è? Non me lo ricordo Tutto praticamente identico Non troveremo mai Brunello Sì, è lui Niki cosa vuoi comprare? Io di Borreta Pantaroncini sobri Il panino con dentro tutto Ok Buona condizione Molto bene Sì, belli paesaggi Bello tutto Ma quanto è bello svegliarsi con la colazione inclusa Vabbè È bello il sveglio Questa condizione Siamo in un parco abbandonato Ma non si può entrare E c'è la guardia che ci sta cacciando È la seconda volta che entriamo È la seconda volta che ci caccia No 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 C'è un signore sulla cinquantina, autoproclamato singuardiano, vestito da poliziometro che ti insegna con la sua moto e ti caccia dal barco. Però, se ti fai vedere bello sul minuto di voler stare qua, puoi passare qualche mancorrota sotto mano e tutto andrà bene. Andando da qua c'è passato davanti un gruppo di circa sei scimmie che si sono nascoste qua dentro e ci stanno fissando da qualche parte perché ogni tanto fanno capolino fuori. Eccola, eccola, eccola. Della postazione si stanno facendo vedere piano piano penso che abbiano dei cuccioli e che ci sia una specie di guardia che ci tiene l'occhio. Eccola, eccola, eccola. Wow. Wow. Prendi la crepettina, la metti qui, la apri, se ci riesci, prendi un po' di verdure random insomma, appena colte, le butti qui, ci metti un po' di salsetta, e richiuti e voilà, cotto e mangiato Nicole dice di prendere la rotonda, ma... la rotonda la rotonda ci aveva sconvolti? la rotonda! perché non avevamo ancora visto il ponte un normale e tranquillo ponte cittadino che nel weekend sputa fuoco e acqua e qua stiamo blatterando sul brutto tempo, sulle nostre bellissime divise e sul fatto che ci stavamo preparando ad un'avventura in una barca un po' particolare in un'avventura richi in un'avventura in un'avventura si trova una barca un po' di Zain ca no 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 la mia moglie ha dato tutto questo no, no, no no, no 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 e la signora ci sta insegnando come fare le foto quindi vuole che la Nicole tocchi la farina e io faccio la foto ok 1 2 3 4 ok come on ok e adesso che fa? si vuole arrampicare signora che fa? ah la foto eh, vedi? la foto lì vai cheese 1 2 cheese ok ok hello ciao Italia ciao Italia ciao Italia ciao 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 wow ahahahah 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 ce l'hanno tolto ma dove? è un'ora e più che stiamo girando tutti ci dicono vie diverse adesso siamo in motorino con questo signore che ci sta portando in giro a cercarlo speriamo di trovarlo e cerca Brunello di qua e cerca Brunello di là l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata e mentre il vecchio anno ci stava salutando per la prima volta non stavamo pensando solo a quello che stava arrivando ma stavamo guardando indietro soddisfatti e felici di come fosse andato il nostro 2018 pieno di fatiche e sacrifici fatti con gioia e ripagati pienamente un anno di cambiamenti immensamente ricco di emozioni e di sogni realizzati che come lanterne hanno preso il largo illuminandoci gli occhi di gioia ma certe cose non cambiano mai buongiorno il capodanno è passato e fuori piove quindi mangiamo la